Per quanto ci potrebbe stare, perché lui alla fine è il primissimo Wyatt, versione 5-6 anni di aggiornamento di storyline, sarebbe abbastanza, per quanto comunque detto ci starebbe, però è forse un po' troppo ridondante, mi sembrano personaggi, perché metterli insieme quando c'hai già Wyatt, quindi per me non li vedo così tanto bene insieme, sarebbe una roba ridondante, anche perché Gacy non è che mi piace tanto, proprio per questa cosa che è abbastanza Wyatt, anzi, una roba a metà tra il vecchio Harris e il primissimo Wyatt 2.0. Un'ultima cosa che ci tengo a dire è comunque, il pay per view in generale fa capire il quanto si basi completamente sul segmento finale, la parte iniziale è stato, se la possiamo dimenticare tranquillamente. Sì, sì, infatti volevo andare un attimo a leggere proprio adesso i risultati, allora abbiamo il fight pit match con Damian Cormier come special guest referee, Matt Riddle che sconfigge, poi tra l'altro ha l'ennesima sconfitta in pay per view per Seth Frickin Rollins, nell'ultimo anno più o meno, se non erro, perché da tipo Money in the Bank dell'anno scorso, se non prima addirittura. Rollins potrebbe essere uno di quei nomi caldi che potrebbe andare con Wyatt, e lo lancio così. No, 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 Rollins devi giocartelo, ormai Rollins te lo devi giocare come lo Shawn Michaels di vent'anni fa, quello che sta lì, il veterano che ti lancia gente, che magari ti perde in pay per view ma non perde mai la sua aura, te lo devi giocare in quel modo lì. Ma come lo giustifichi? Che cosa? Come lo giustifichi che gli è venuta, sono i rimasugli del colpo nel... No, sono... Nell'NSL dopo tre anni. Lo puoi giustificare per una cosa, lui è sempre stato il messaglio, è sempre stato il portatore della luce e si dà completamente al buio. Avrei una paura enorme per una storyline del genere. Perché darti al buio se Wyatt, che vive nel buio, ha bisogno di una lanterna per illuminare tutto? Vai, vai. Eh, lo so, scusa Vale, ti do subito la parola, però lui, allo stesso modo di Liv Morgan, è stato, o almeno sono stati loro due gli unici, nel subito dopo che è successo il discorso Wyatt, ha oscurarsi in pagina Twitter. Quello sì. Completamente nero, completamente nero tutto quanto, immagini, sfondi e tutto quanto, quindi vai Vale. Qual è il prossimo preview della WWE, il premium live event? Crown. Crown Jewel. Contro chi iniziò il declino di The Fiend? Goldberg. Goldberg. Qual è il miglior modo per reiniziare una nuova vita uccidente, perché guardate i fantasmi del passato e quindi... Non Goldberg. Goldberg nei Wyatt Six. Però ha ragione, il Vale è una testa molto superiore alle altre, non c'è niente da fare. È sensato, è sensato, è sensato, sicuramente. Cioè, è quello che avrebbero dovuto fare con il Fiend quando, per esempio, andò a fare la faida con Sina, no? Dove lui dice, io devo sconfiggere i miei fantasmi del passato di qua e di là, è andato a sconfiggere Sina poi in quel modo, in quel tipo di match, che un match non è e quant'altro. Però sì, è sensatissimo. che può stare, perché tantissimi fan hanno ancora questo malessere di chi perde contro Goldberg. Quindi, ecco, secondo me, una rivincita comunque possa avvenire in qualsiasi palco scenico, ecco, un po' calmerebbe tante persone. Comunque, secondo me, potrebbe essere uno scenario. E poi succede questo, spese, vai, ecco, poi succede questo, Ricorda vince di nuovo, e fu così che poi Flavio, dalla cima della Torre Eiffel, ci saluta. No, ma vedi gli Anabi che strappano il contratto in diretta. Ma che, raddoppiando, mettono uno zero in più a fondo. Non frega nulla a quelli, vi ricordo che loro vogliono... Ragazzi, ragazzi, volevo fare una battuta, ma non la posso fare, ve la scrivo in chat privato. No, 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 per osmosi gli ho già passati i momenti... Noi, nel frattempo, attendiamo la battuta del prof, eccola qui, andiamo a leggere. Ah! Sempre in riferimento alla rabbia, ovviamente. Potrebbero fare questa a questo punto, scusami. Avrebbe più senso, avrebbe più senso. Quindi ci devono mettere... Teniamoci i nostri segreti, teniamoci i nostri segreti. Teniamoci i nostri segreti. Allora, Extreme Rules, abbiamo detto, Rintor che sconfigge Rollins, Balor che sconfigge Edge in un equit match, Bianca Belair che, ahimè, difende il titolo femminile nell'Under Match contro Bay, Carion Cross che è probabilmente uno degli atleti più sopravvalutati dell'ultimo decennio insieme a tanta altra gente, vedi Andrade, sconfigge Drew McIntyre in uno strap match. Nel caso di Andrade è colpa della moglie, come nel caso di Andrade. Beh, anche nel caso di Cross perché teoricamente tu Cross lo guardi solo e esclusivamente perché c'è quel gran pezzo di... Insomma, c'è Scarlett Bordeaux e quindi tu dici, ma guardiamoci Scarlett e magari forse forza qualcosa di più negli occhi. Certo, certo, certo. E poi c'è Ronda Rousey che sconfigge Liv Morgan in questo Extreme Rules Match dove riconquista il titolo femminile di SmackDown e i Brawling Brutes che superano l'Imperium. Ecco, possiamo confermare nuovamente che il pay per view probabilmente lascia a desiderare nel suo complesso e che insomma abbiamo passato gli ultimi 52 minuti e 19, 20, 21, 22, 23 secondi a parlare di Fiend, Bray Wyatt e chi che sia. Questo fa capire un po' tutto. Prof, un pensiero generico sull'evento, forse probabilmente non ne abbiamo bisogno però ve lo chiedo perché comunque siamo il Pila Pissi ed è giusto riempire un po' il programma anche con questo discorso. Allora, qualche bel match c'è stato. L'opener è stato veramente tanta roba. Dico una cosa che farà storcere il naso a molti però mai come adesso la WWE avrebbe bisogno di un titolo trio perché abbiamo veramente tante stable o tanti gruppi con tre persone e sarebbe molto interessante vederli. Certo però andiamo sempre sul solito discorso non riescono a gestire il titolo di coppia figuriamoci un titolo con sei persone dentro quindi sarebbe ancora peggio. Non facciamo come la New Japan che introduce Vabbè, ne parliamo dopo di quello. Il discorso fatto con Vale stamattina. Secondo me in tutto quanto l'evento quelli che escono realmente sconfitti tolto Drew McIntyre perché era una sconfitta già da quando è uscita la stipulazione, il suo match le donne ne escono veramente male 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 da questo evento una su tutte ne esce male Bailey che ok io apprezzo sempre poco Bianca Belair lo sanno tutti quanti a me non piace come lotta però in questa situazione ho ragione cioè tu hai fatto hai fatto distruggere tutta la damage control da Bianca e non ha senso e non ha senso tu hai costruito due mesi di due o tre mesi di damage control per il nulla quindi posso dirti una cosa posso dirti una cosa prof cioè leggendo questo commento di Lampu Crayford più che disastro è che il tipo di live event nasce proprio per questo tipo di matchup non spettacolare dove le donne fanno ancora più fatica allora mi chiedo opinione mia personale per la quale posso essere bandito magari anche da dal pensiero di donne tra le corde per dire ma perché fare far fare a determinate donne questo tipo di match se non sono capaci di farlo esempio perché portare in scena un elimination chamber match femminile dove devi mettere dentro sei donne dove una è peggio di un'altra cerca di farlo perlomeno una volta ogni tanto una volta che ne so ogni cinque anni per dire ma con gente capace perché il last man standing match Gail Kim e Tarin Terrell te l'hanno fatto e te lo ricordi ancora oggi se hai seguito la TNI a suo tempo quindi mi chiedo perché non farlo con gente capace piuttosto che continuare come si sta facendo adesso e quindi con gente che questo tipo di match non li sa fare messaglia io ti aggiungo anche che lo stesso discorso vale per le donne ma vale anche per gli uomini sicuramente però sappiamo bene perdonami sappiamo bene che in percentuale le donne fanno molto più fatica rispetto agli uomini a gestire questi match questo non vuole essere un commento sessista assolutamente no non prendiamola perché se no cioè ragazzi se no chiudiamo tutto e basta anzi messaglia io dico ancora un'altra cosa se io devo vedere quello che hanno fatto Bayley e Bianca che comunque si sono anche impegnate e poi mi vado a vedere quello che hanno fatto Jordan Grace e Masha Slavovic a Bound for Glory io prendo abbasso il cappello magari lo confermiamo dopo ma è il match femminile dell'anno poi ci sta chi magari ti verrà vicino a dirti che Britt Baker è la regina di sta minchia scusa la volgarità vabbè però cioè io un match femminile migliore di quello nel 2022 io non ancora lo vedo e a due mesi alla fine dell'anno credo che non lo vedrò poi mi puoi dire mi puoi venire vicino a dire ma tu sei un Mark di Impact e ho capito ma trovami un match femminile migliore di quello uno uno che abbia una storia costruita meglio svolta meglio con un match fatto meglio un solo match uno ne voglio vediamo se anche la chat forse un bianca uno dei due bianca versus Becky ma che storia ha bianca contro Becky che storia ha non ha la stessa intensità non è letteralmente paragonabile considerando poi quanto bianca valga sul ring lo so però vabbè io concludo il mio discorso dicendo vai 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 a me alcune situazioni non mi sono piaciute non mi è piaciuta la situazione di che hanno fatto intorno a Bailey io vedevo anche prima il messaggio di devo recuperarmi il nome di Lampu che diceva in storyline il il discorso sulle damage control ci sta cioè che loro devono perdere sì però adesso che cosa gli fai fare la rimandi di nuovo contro ok che si dice che stanotte potrebbe tornare Charlotte potrebbero fare questo switch di di roster Charlotte a Raw e Becky a Smackdown quindi potrebbero Charlotte per forza gli devi mandare una face e non è che potevi fare il cambio di titolo dovevi mandarla per forza contro bianca stai portando avanti questo discorso delle delle four horse women quindi Charlotte ce la devi mandare contro però devi dare anche un pochino più di eh forza alla stable di Bailey io ho sentito voce addirittura pre extreme rules di gente che voleva quasi già separarle eh ci sarà il tradimento di di Io Sky ai danni di Bailey durante il ladder match ragazzi ma sustainable cioè è nata è nata due mesi fa è nata tre mesi fa no di cosa stiamo parlando però stanotte sincero stanotte potrebbe perché guarda io ti dico scusami Matteo se ti interrompo no no ho finito tanto per me per me chi ne esce peggio da questo da questo poi per voi proprio l'ho detto subito in diretta cioè proprio ho detto cioè Bailey non doveva perdere non c'era nessun senso che piava il stesso match e in questo momento Bailey è un personaggio cioè gli ha dato un senso iniziale di predominio dominio totale qua là spacco tutto c'ho sta stable fortissima di qua di là arriva Bianca e spacca tutta la stable e uccide ma non solo Flavio l'hai fatto anche l'altra volta non facendo vincere subito loro i titoli facendole passare per le situazioni delle imbecilli non so se vi ricordate hanno fatto vincere i titoli a Rachel e a Lia ma guarda ma guarda che io sta cosa veramente e l'ho scritto e l'ho scritto è stato l'unico errore da quando De Vrij ha ripreso cioè quando ha preso le reddini in mano perché cioè veramente la credibilità di Bailey adesso se stanotte dovesse tornare Charlotte raga ma Bailey che cosa fa cioè va mi va a fare attenso io non ho visto il match cioè non ho visto proprio Extreme Rules ho visto soltanto la parte del ritorno di De Vinde vi chiedo come si è concluso il match no 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 ma Bianca ha vinto comunque con un con la sua finisher sulla sulla scala ok su Bailey però ti dico magari potrebbero proiettare la cosa per un nuovo scontro sì ma se torna Charlotte come diceva Matteo che fa se torna Charlotte dice Charlotte il titolo è questo che ti sto dicendo ma è quello che ti sto dicendo allora quindi non fai tornare Charlotte non fai tornare Charlotte e a Crown Jewel a Crown Jewel